Mertens, il pallone per Amsic in area di rigore, Amsic si gira col sinistro Caglievon, punta Liadnan, cerca di saltarlo, servito Allan, in mezzo c'è Insigne, ancora Allan, Maggio a terra, calcio di rigore per il Napoli, fallo sul Maggio Parte Giorginho, Giorginho ancora, dopo Mertens, chiude Samir, ancora Mertens, Amsic Palla recuperata da Ludinese senza convento di farlo, Barak prova la conclusione, Reina Diabara, subito verso Mertens, è scappato Caglievon nelle spalle, è difensore dell'Udinese, Caglievon Wittmer, su di unizia i mischi, ancora Wittmer per Barak che va al tiro